Il ciclone Winston ha raggiunto le isole Fiji, un arcipelago dell'oceania dove vivono circa 900.000 persone. Per il momento è stata confermata la morte di una persona e la distruzione di alcune case. Il ciclone ha fatto registrare folate di vento a circa 320 km orari, cosa che secondo alcuni ro ha reso il ciclone più intenso mai registrato nell'emisfero meridionale.